36 nuovi alloggi popolari, tre botteghe artigiane in centro e un palacongressi con cittadella dei giovani all'interno di Palazzo Cursal ammontano ad oltre 4 milioni e mezzo di euro gli interventi messi in campo da Giulianova Patrimonio partecipata del Comune nell'ambito dei PUCCHI, piani urbani complessi finanziati attraverso un contributo a fondo perduto di circa 2 milioni di euro messo a disposizione dalla Regione con un mutuo contratto con Banca Prossima intesa. Abbiamo creduto in questo progetto di social housing, importante per il territorio, che rispecchia un attimo il nostro modus operandi è un progetto che per noi è una best practice, che vogliamo continuare a replicare sul territorio e che siamo convinti che avrà un risultato di sicuro interesse. Gli interventi saranno portati a termine entro 5 anni, il sindaco sottolinea l'importanza sociale dei progetti. È un grande progetto, è un progetto che rigenera una parte importante del centro del Lido come Palazzo Cursal, Palazzo Liberty del 1913 che non ha mai avuto la sua destinazione naturale di centro congressi e ora le avrà insieme alla cittadella dei giovani, e il centro rinascimentale che con questo intervento completeremo con un altro tassello della sua riqualificazione che abbiamo dato in questi ultimi sette anni, rivitalizzandola e creando opportunità per i giovani e per l'attività. Sicuramente l'intervento più scenografico è quello sul Palazzetto Liberty di Piazza Dalmazia, la struttura che risale al 1913 attualmente poco sfruttata e assumerà un ruolo centrale nella vita della città. Noi pensando nella situazione del Cursal in maniera completa abbiamo cercato di dare una risposta a tutti gli spazi che compongono il Cursal in maniera che si compresa una struttura complessa capace di dare risposta alle esigenze della nuova congressistica, alla nuova tipologia di congressi e a tutto ciò che fa di concorso e contorno a un congresso. Grazie a tutti.